Musica Musica Noi innanzitutto la prefettura l'abbiamo già investita sulla problematica quindi già abbiamo avuto un incontro con la Defeo dove poi abbiamo dato anche i tempi tecnici perché loro ci volevano un attimino approfondire la questione anche alla luce del cambio del prefetto che c'è stato è chiaro che noi chiederemo in prima battuta un intervento per il pagamento delle spettanze arretrate tenuto conto del fatto che come voi già sapete la stampa, l'opinione pubblica, i cittadini e tutto quanto sanno già che c'è stato fatto un intervento di gisura di circa 20 centri di accoglienza e di cui in questi circa 20 centri lavorano 120 lavoratori che dall'oggi a domani sono rimasti senza lavoro in primo luogo ma sono rimasti anzi senza aver ricevuto quelle che sono le spettanze arretrate quindi in prima battuta noi chiediamo le modalità per erogare il dovuto delle spettanze arretrate quindi TFR e quant'altro e poi ovviamente in prosieguo chiederemo anche qual è la prospettiva occupazionale per questi 120 lavoratori e 120 famiglie quindi oggi il motivo essenziale è questo poi vediamo un po' se c'è bisogno di spingere su qualcosa perché oltre ai lavoratori c'è anche questione dei migranti proprio che quelli oramai erano già strutturati nella provincia di Benevento quindi sono stati un po' dislocati sul territorio campano molti di questi che stanno anche con USB perché fanno una scolarizzazione quindi tutto un processo anche di integrazione importante quindi c'è una dublice situazione che secondo noi va affrontata e va anche definita in tutti i suoi aspetti quindi poi noi non entriamo nel merito delle questioni giudiziarie perché non ci interessa a noi ci interessa il lavoro, ci interessa i lavoratori, ci interessa tutto l'aspetto altre cose non attengono a noi, attiene a chi deve fare indagine per verificare che cosa è successo e come si è determinata questa situazione ci hanno chiesto di pazientare perché il nuovo prefetto vuole ben capire la situazione noi ovviamente per senso di responsabilità 10 giorni, anche 15 giorni gliel'abbiamo dato però ad oggi non sappiamo che cosa può determinare tenuto conto del fatto che poi per quanto la questione specifica è proprio la prefettura che poi eroga quelli che sono i proventi alla fine del mantenimento dei centri e quant'altro quindi diciamo che noi in maniera sostitutiva si può anche assumere la responsabilità della prefettura a meno per incominciare a pagare quelle che sono le spettazioni alle trate noi avevamo già dato indicazione che se non ci convocavano facevamo un presidio per mercoledì prossimo ci hanno convocato e noi per meglio rappresentare quelli che sono i risultati abbiamo comunque convocato un presidio, come vedete un presidio pacifico anche per mettere a punto e mettere a fuoco quelle che sono le risposte che ci vengono date dalla prefettura Anche un vigile urbano è stato pizzicato a gettare rifiuti fuori orario e in aree non consentite a nocere inferiore la rete non perdona i nocerini pure è battaglia aperta contro chi inquina alimentando le discariche abusive nelle zone periferiche i cittadini sono stufi, in particolare i residenti nelle zone rurali che le periferie vengano trasformate in immondezzaio puntano il dito con tanto di immagini rilanciate sui social senza risparmiare colpi neppure agli agenti di polizia locale che dovrebbero fermare e sanzionare gli inquinatori non esserlo, un caso, quello del vigile urbano che ha coinvolto l'intero corpo dei metropolitani loro dovrebbero darci il buon esempio, scrive l'autore della denuncia social pubblicata nel gruppo 6 di nocere inferiore e se il comandante dei caschi bianchi Giuseppe Contaldi ha annunciato fermezza e pugno di ferro contro la gente sorpreso a lasciare i rifiuti in via Urbano Sesto l'uomo, si vede dalle immagini, è stato redarguito da un automobilista di passaggio ma si nota che reagisce con vehemenza a chi gli fa presente che non si può sversare l'immondizia ma prima o poi qui lo vengono a prendere ha risposto un'altra signora pizzicata nello stesso posto da un altro cittadino che ha postato sempre su Facebook le foto del reato con tanto di commento indignato ora tutti chiedono misure rigide ed esemplari soprattutto nei confronti del distratto esponente delle forze dell'ordine le micro discariche sono un problema per nocere inferiore nella zona rurale ce ne sono decine in via Santa Maria Palo nei giorni scorsi ne è stata rimossa una enorme purtroppo gli operatori hanno lasciato lungo il ciglio della strada dei mobili e dei sacchetti aperti il pretesto per alcuni incivili che ne hanno subito approfittato sversando nelle ultime ore un carico di laterizi provenienti da qualche cantiere edile insomma si è punto e a capo una vergogna senza fine già oltre 1600 persone nel 2018 hanno perso la vita nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee nonostante il numero di coloro che cercano di attraversarlo si è diminuito in maniera significativa rispetto agli anni precedenti i dati dell'UNHCR arrivano dopo lo sbarco delle persone rimaste a bordo della nave della Guardia Costiera Italiana 18 con l'elogio da parte dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ai paesi e alle organizzazioni che hanno dimostrato solidarietà offrendo di accogliere coloro che erano rimasti a bordo l'UNHCR continua a incoraggiare la messa in atto di accordi prestabiliti e prevedibili per la gestione delle persone soccorse in mare nella regione mediterranea e sollecita gli stati ad accelerare gli sforzi per mettere in atto accordi del genere quanto è successo deve essere un campanello d'allarme ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi la vita dei rifugiati richiedenti asilo è messa in pericolo mentre gli stati sono impegnati in discussioni politiche per trovare soluzioni a lungo termine la situazione della 18 aggiunto è ora risolta ma abbiamo bisogno di un approccio europeo collaborativo e prevedibile nei confronti delle persone soccorse in mare anche l'attore Lino Banfi sceglie la costiera cilentana per le sue vacanze stile dopo il dovere e il piacere è venuto perché ho visto la tranquillità di qua il fatto che la spiaggia è privata appartiene all'albergo il salernitano per le sue meraviglie è sempre più meta predileita dei vipo dalla costiera marfitana al cilento però andare in una spiaggia normale dove poi non riesci a stare neanche un attimo a riposo no, qui invece è tutto bello, è tutto con discrezione e con garbo mi piace il pesce, io sono ittico dipendente pur non sapendo nuotare mi piace tutto ciò che viene dal mare quando il pesce è fresco, certo, nei posti dove è sicuro, è sicuro adesso poi avendo l'orecchietteria ho imparato anche il termine abbattere deve essere abbattuto per me prima abbattere voleva dire fucilare qualche persona, ucciderla in realtà è come se tu momentaneamente uccidi quel pesce o quel frutto di mare lo metti a tacere per un po' il catalessico è sicuro che i microbi non ci sono però anche se non c'è pesce mangio tutto sono dati da fare tutti a trovarmi pesce, quello che si può mangiare crudo si mangia ma non è obbligatorio, il pesce è buono anche cotto devi dimagrire un po' e quindi camminare per te e salutare ed è così dico io, salutare, io continuo ciao Lino, ciao Lino, ciao Lino e quando cammino io così? tanto male che sto seduto alla poltrona e prendo il sole qua milioni e milioni, quelli che so, so perché delle volte sono meglio 100 persone buone che un milione di nostri amici Sindaco siamo alla fine di Medievalia anche quest'anno è stato un evento che ha radunato una massiccia presenza ha visto una massiccia presenza insomma ormai è un successo collaudato sì, collaudatissima quest'anno l'idea di mettere insieme la Medievalia l'incendio del castello insieme anche all'unità pastorale legandolo alla festa patronale è stato un qualcosa di eccezionale un intuito particolare che subito tutti quanti noi abbiamo capito che era il momento di metterla insieme e queste serate sono state bellissime perché tutte le contrade che stanno a rappresentare poi l'unità della nostra comunità di Feicchio le otto contrade che si sono poi un poco affrontate nelle gare nel palio e un po' su quelle che sono stati tutti i giochi del Medioevo legandola proprio a quello che è anche il clima proprio che si è creato insomma una competizione sana per il bene di Feicchio una competizione che soprattutto ha messo insieme le contrade quello che noi volevamo infatti l'abbiamo visto dalla corte, i contradaioli, i giochi queste gare sane come abbiamo detto e poi alla fine abbiamo promosso le nostre tipicità è stato bellissimo questa prima tre giorni è stato bello anche questo momento forte religioso la processione dove hanno sfilato anche tutte quante la corte, le contrade, tutti quanti noi, le autorità, il popolo è stato bello perché il patrono credo ci ha regalato questo bel segnale di unità a conclusione anche di una nostra esperienza amministrativa lasciamo un bel segno e anche di un bel segno Sindaco siamo alla quinta edizione dell'incendio del castello innanzitutto ricordiamo ai telespettatori come è nata questa idea ma l'idea dell'incendio del castello è nata insieme a questa amministrazione 5 anni fa proprio per promuovere e valorizzare il nostro borgo medievale soprattutto il castello che fa da cornice a questo borgo al centro storico e intorno a questo legandolo alla festa patronale per valorizzare quelle che sono le nostre ricchezze e le nostre tipicità grazie a tutti grazie a tutti buona la prima per Marco Migliorini il difensore Granata ha evidenziato che tutto sommato la Salernitana può ritenersi soddisfatta del debutto alla luce delle tante novità che quest'anno presenta la squadra il centrale ex dell'Avelino ha sottolineato come molti giocatori lui compreso siano arrivati da poco e che quindi la compagine Granata nel complesso abbia necessità di conoscersi e di rodare i meccanismi ben consapevole delle aspettative che la piazza nutre nei confronti di questa Salernitana Migliorini aggiunge che l'obiettivo è quello di fare bene e soprattutto far divertire i tifosi è stato un bellissimo pomeriggio di sport sicuramente la cornice della Rechi insomma è una motivazione per qualsiasi giocatore e credo che possa essere una grandissima spinta per noi noi come squadra cercheremo di mantenere questo entusiasmo perché sarà fondamentale per creare un ambiente molto ostico per gli avversari ogni sabato primo tempo abbiamo avuto un atteggiamento più attendista abbiamo fatti palleggiare noi abbiamo cercato di stare compatti, stretti tra le linee insomma per non dargli profondità non dargli il gioco contro i coschi tra le linee secondo tempo abbiamo indirizzato su una giocata e siamo stati più aggressivi sicuramente sicuramente ora vedremo qual sarà l'atteggiamento che potrà avere questa squadra secondo me è stato un atteggiamento giusto perché tanti giocatori nuovi sicuramente c'è bisogno di provare, riprovare vedremo qual sarà l'atteggiamento di questa squadra capiremo incominciano ad essere chiare in quelle che sono già delle certezze assodate che abbiamo cercato con cura di mettere all'interno di questo gruppo per poter essere ad esempio e fare la chioccia agli altri poi dobbiamo continuare a lavorare e a cercare altri profili secondo me da questa piazza secondo me il direttore è stato molto bravo a fare questa campagna acquisti ne discutiamo tutte le sere senza nessun problema e cerchiamo tassello dopo tassello di mettere a posto i giocatori io so che voi siete contenti e mi battete sempre su questi giocatori importanti però io vi invito perché noi dobbiamo giocare anche con quattro giocatori under e se per tutti questi giocatori noti sono importanti per me lo stesso e per la società lo stesso poi dobbiamo andare anche a cercare dei profili che sono da Avellino Calcio e che sono giovanotti sicuramente questa qui è la difficoltà maggiore che noi possiamo avere perché essendo partiti il 20 agosto i migliori li hanno presi tutti gli altri e io sono esigente verso la società perché prima di prendere un giocatore lo voglio vedere e purtroppo siamo in un mondo dove esistono troppi procuratori e tutti quanti pensano di avere nelle proprie scuderie dei fenomeni e tante volte ti propongono dei giocatori che non ti mandano nemmeno in prova e stiamo parlando di 98-99 questa è una cosa vergognosa penso ma io vi ripeto se devo fare delle brutte figure allora preferisco allevare in casa qualcosa che noi abbiamo di livello normale se invece qualcuno si decide a mandare giocatori perché è un orgoglio essere e far parte dell'Avellino Calcio allora io li alleno però passano sotto la mia visione prima a scatola chiusa non prendo niente impressione non tanto ieri hanno fatto solo corse anche stamattina impressione me la sono fatta guardando come è composta la squadra come ho detto prima penso che la società abbia investito abbastanza tanto in questa squadra con giocatori quasi tutti esperti tra un paio e con una carriera importante quindi penso che saremo una squadra forte ora sta noi in questo periodo dell'anno trovare i giusti equilibri e riuscire a giocare bene tutti insieme però a me piace tanto questa squadra come composta e speriamo di fare bene personale mi aspetto anche l'anno scorso mi aspettavo di fare una grande stagione di vincere il più possibile sicuramente come hai detto te l'anno scorso arrivavo dell'estate di aver giocato tutto l'anno senza quasi mai fermarmi ora ho fatto un mese e mezzo di vacanza quindi niente sono molto carico non ho tanta voglia di iniziare come ho detto prima spero di che facciamo tutti insieme una grande annata sì 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 sicuramente se vuoi fare una squadra vuoi far parte di una squadra forte ci sono giocatori forti quindi devi guadagnarti minuti tutti i giorni sarà uno stimolo in più dover competere ogni giorno cercare di migliorare ogni giorno per trovare minuti secondo me la stagione è lunga ci sono tante partite quindi se facciamo le cose bene tutti ci sarà spazio per tutti per giocare ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsioni per martedì 28 agosto l'anticiclone africano torna a dominare il nostro paese sarà dunque una splendida giornata all'insegna del bel tempo ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it al nord sarà asciutto e stabile ovunque tanto sole su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura sparsa poche novità sulle nostre regioni centrali anche qui sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento il cielo sarà sereno sulla Sardegna al massimo velato sui settori peninsulari anche a sud infine sarà bel tempo con tanto sole ovunque e con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso non sono attese precipitazioni degne di nota i venti saranno moderati in prevalenza di maestrale concludiamo infine con le temperature che risulteranno essere piuttosto fresche le minime infatti saranno comprese tra 10 e 23 gradi un po' su tutto il nostro paese per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 30 gradi al nord fino a 29 gradi al centro e fino a 31 gradi al sud grazie a tutti grazie a tutti